Amici se per sbaglio nel video di oggi dovessi pronunciare la lettera R, cosa che faccio molto spesso, il video in quel caso finirebbe. Ce la faremo? No, durerà tanto il video? No. Iniziamo. Amici dopo anni benvenuti in un nuovissimo video di questo gioco. Quindi andiamo lì e vediamo di non... Avete capito? Ok, c'è un botto, ma un botto inspiegabilmente di gente. Quindi io mi acchiappo la cassa e queste sei... Vabbè avete capito? E ci vediamo dopo. Oh, 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 oh! Fucile d'assalto blu e anche fucile pesante tattico blu e la pistolina. Lasciamola lì. Dove siete? Piccoli polletti. C'era un polletto qui, io sono abbastanza sicuro. Mi è scappato. Ho un'idea, ho un'idea! Vai, tutta in testa, tutta in testa! Ho un'idea, ho un'idea! No, assolutamente no! Sì, è fatta! Yes! Bye bye YouTube Killer LP. È la fine! È andata? È andata? Sì! Sì! No! Sì! No! 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 Oh! C'ho uno di vita, c'ho uno di vita, c'ho uno di vita. Ma sei un animale, ma stai calmo, ma fatti una tisana imbecil. È assolutamente andata. Va bene, va bene. No, bene, bene. Solo perché non posso dire quella lì. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Secondo tentativo. Sabbie sudate. Che non ha nessuna... Avete capito. Sì, spero. Voglio un attimo uscire dalla challenge. Parentesi, questo non funziona. Vedere Kratos che vola così, con delle alettine un po' discutibili, madonna mi fa piangere il cuore. Ma vabbè, ho detto 700R. Torniamo nella challenge. Uh, uh, pompa! Eh sì! Eh sì! Eh sì, amico mio! Lei è un pezzo di fango. Cosa credevate? Eh sì! Easy! Easy! E ora sì, ce l'ho anche... Sì, sì, sta buono lì, sta buono lì. Madò, che botta in testa! Buono! Buono! Sono... sono soddisfatto. Ok, ok. Mamò, ok! Eh, ho detto mamò, ok. Eh... E che cazzo... E che cazzo... Beh, però non ce l'aveva la... Quindi, e che cazzo? Schioppati? Sono schioppati. Due kill? Le abbiamo. Quella cosa lì? Non l'abbiamo detta. Vado, uh, 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 Pesce piccolo Facciamo questo Uh pesce a scudo Buono il pesce a scudo è buono Dai ma un buco Cioè che detto così Ma non è niente di vero Anyway c'è un tizio E questo No non mi piace così Che sbocco che sbocco Mayday mayday Via scappa Che situazione Voglio far Questa cosa e poi Lo spacchiamo forse Scemo scemo Sì scemo Sì stupido No cioè scherzavo 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 scemo Sì No C'è la safe no E scappa por sempre Piccola gufata Questo match È vinto Eh sì Eh sì amici È vinto È già vinto Già mio ce l'abbiamo in tasca Uh lo sloop Pensavate Vola Klatos Vola Klatos Klatos Vola Klatos Vol Vol Scusate Figata Eh L'ho Visto Il giorno Di questo Figo No Vabbè In ogni caso Figo Danni da pistola Con pistole Comuni o non comuni No Eliminazione con pistole No Danni da pistola No Elimina Nemico Ok Scoo bounty Scoo Scoo Uh 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 No No Di pochissimo Sabbia Attivati Brr 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 Beh È devastante Devastante Settame Queen Ti ho visto Ti ho visto Biac Eh sì Eh sì Eh sì Stupido No No Ho una famiglia Ho una famiglia Uh Uh Fine È andata È andata Che animale Che animale Ho capito perché fugava Il tipo di prima Ho assolutamente capito Sì Sì No 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 Assolutamente no Mi sto facendo la cacca addosso È andata Pe Ti 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 Sei un infamon Un infamon Guardalo lì Uh Uh Dieci No Non c'è No 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 Ma dai Ma porca mer No 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 No